La caccia alla penna nel periodo autunnale e invernale raccontata con sentimento e passione. Nonostante passino gli anni, la caccia mi dà ancora grosse emozioni ed è quello che alla fine ti spinge a continuare. Fiume dal nord, dal 9 novembre ogni giovedì alle 22 in esclusiva su Caccia, canale 235. Fiume dal nord, dal 9 novembre ogni giovedì alle 22 in esclusiva su Caccia, canale 235.